Attendere gli esiti dell'odierno Consiglio federale della FIGC e delle indicazioni che arriveranno venerdì dalla Lega Nazionale di Lettanti non significa che il Casarano stia fermo e impassibile in attesa degli eventi. L'attenzione è rivolta alla composizione dell'area tecnica e perciò sotto osservazione ci sarebbe il tecnico Dino Bitetto. Al momento sarebbe più facile pensare a una separazione dalla Piazza Rossa Azzurra che non a una sua riconferma. L'idea per la panchina sarebbe Nicola Ragno già tecnico di Bisceglie e Potenza con cui ha vinto due campionati e Taranto l'ultima squadra allenata. Se si decidesse di passare dal pensiero all'azione si tornerebbe a ripercorrere il sentiero già tracciato un anno fa quando le parti furono vicine alla conclusione. Naturalmente l'allenatore Molfettese non sarebbe l'unico nome pagliato dalla dirigenza e dalla proprietà salentina che con le giuste tempistiche del caso sta provando a riorganizzarsi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.